Un incidente stradale che ha coinvolto un mezzo pesante ha costretto l'ANAS a chiudere temporaneamente la carreggiata Nord dell'autostrada A2 del Mediterraneo, tra gli svincoli di Scilla e Bagnara Calabra. Sul posto sono intervenute le squadre dell'ANAS e le forze dell'ordine per la gestione della viabilità e consentire il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile. Il camion, un auto articolato per cause che sono ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo urtando contro un guardrail e la rete di protezione della carreggiata e finendo per adagiarsi su un fianco nella corsia opposta.